Ciao, Maurizio saluta, ciao, ciao, azione Maurizio, azione, è già azionato, e da mo' Attento, boccato, mi può far male, non lo fare male, ho capito, boccato, non lo fare male Tu li prendi tutto così Questa è una nuova stazione, questo rimane un po' buonetto, no, come era Ti piace la galleria? Si, ma non ho capito a che serve, perchè l'hanno fatta, perchè se devono metterci il finale o no Ecco, aspetta Mi arriva questa speccia rossa, non basta No, è salito uno, non è successo Ma è torna No, no, non è scattato Non è scattato È scattato Ti piace la galleria della posta, ti piace la pancia Si Oh Ci piace la galleria E' una costa Si Ti piace la galleria E' un'altra cosa Si 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 Eccolo, eccolo, no questo è il 4,85, ah no 4,63 comunque è un ex 4,60 è una nuova versione, sì raggiungiato, sì, no, quelli vanno a Termini, un po' adesso lì, questo è l'apporto, sì, Panta, Panta, un po' te li faccio vedere, sì, 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 uno è questo, questo qui, è uno dall'altra parte che scendono, ecco questo qui è l'ingresso, vedi, vanno in sotterraneo, sì, ed esce a sette bagni, no, qui, la linea del Napoli, Napoli, sì, in teoria sì, sì, sulca, 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 ecco questa è la linea alta per il punto di vista, sì, è l'uscita qua, è quella della cosa, eccola, vedi, è l'altra, l'altra, che è? commissita al comissio e nell'emsover qui per cui vediché La ripresa, la ripresa, la ripresa La ripresa, la ripresa, la ripresa 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 La RPresa, la ripresa Grazie. 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 Ah, non c'è l'aeline, è già passata. Ah, c'è pure la polizia. Anche a Ostienza c'è la polizia. Ah, per ragioni per i zinni? Eh, no, per il decreto di Cosa, di Gasparri, di Russia. Questo è il Tevere. No, 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 forse è la Niene. Ecco, adesso diventa binario. Ma dovranno iniziare i lavori fra poco perfino a Guidonia. Sì, poi basta. Grazie.